Ho le orecchie a punta, non mi sfugio un soffio, ho i denti grossi, mangio anche un osso, ho dei begli artigli, ma... Alla maglio è... Macchia, 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 macchia di che? Di diversità. Il progetto Calamaio è entusiasmo, è relazione, è voglia di stare insieme senza paura, è guardare le cose da tanti punti di vista, è avere il coraggio di fare inclusione, senza se e senza ma. Calamaio è accoglienza, ricerca creativa di soluzioni e di innovazione tra le persone e per le persone. Calamaio è un'utopia a cui ho deciso di credere, un'utopia possibile, che è una contraddizione, ma a noi piacciono molto le contraddizioni. Il gruppo Calamaio è un gruppo di amici con cui stiamo sempre bene insieme. Il Calamaio ha educazione con tutta e alla diversità. Possiamo dire che il progetto Calamaio è troppo rogu, questa è una cosa che, diciamo a Cagliari, è molto bella, è una cosa importante che ha segnato noi, ha segnato le nostre famiglie. Per me Calamaio è una palestra di vita, mi piace sperimentarmi sia con gli altri sia con me stessa. Il Calamaio è rottura negli schemi, forza dirompente, energia positiva. Noi c'eravamo dieci anni fa e abbiamo festeggiato con voi i vostri primi vent'anni, è stato indimenticabile. Il Calamaio è un luogo dove impari sulla tua pelle che o quel che importa nella vita è costruire relazioni. Allora Il Calamaio è andare in bagno con la Tizzi Il progetto Calamaio è difficile dare una definizione generale. Il progetto Calamaio è un po' così, è una macchia, una macchia indelebile. Non puoi non vederla, però puoi dire che cosa ci vedi. Ecco cos'è, è scoprire che il tuo punto di vista è unico e proprio perché è unico può dire qualcosa che nessun altro può dire. Quello che ho imparato dal progetto Calamaio è che quello che porti tu non lo porta nessun altro. E il tuo punto di vista arricchisce tutti proprio perché è diverso da tutti gli altri. È una questione di prospettive, da profondità. È capire che la tua diversità è l'opportunità per capire meglio la realtà di qualcun altro, oltre che la tua. Noi siamo diversi ma però non si può dire, ma però c'è anche chissà, chi però non può tradire, un amico mai tradire, lui saprà. Vado sopra i tetti, ma... Mi guarda il pane... Grazie.